Buongiorno amici, ciao amici! Nuovo look in questo periodo, come vedete, cappellino che ho rubato alla Franci tanto lei non lo usava e sicuramente lo vedrete in ogni video da qui fino all'estate prossima Oggi siamo qui per registrare un nuovo episodio di Liz quindi sigla e via! Play! Life is strange, siamo sempre qua, siamo sempre noi sempre il nostro salvataggio 2, continuo riprende sempre da un po' prima, lo sapete ormai Ok, noi devono andare a cercare la nostra amica Eravamo arrivati qui, noi scegliamo cosa ha fatto E chi lo sa? Però non ti le ho passate già in dieta Facciamo Juliet Watson L'ho seccato! Vabbè ma io voglio entrare Parliamo ancora Ma come faccio entrare, non mi serve Dana Non sono stata attenta ragazzi, ora non so cosa devo fare Cheerleader a heart I should find a way to end this silly standoff Che cos'è? Caro signorina Chase, grazie per l'interesse dimostrato nella Galleria Craft Siamo spiacenti di informarla che il suo lavoro non corrisponde alle nostre esigenze in questo momento Apprezziamo i suoi sforzi e le auguriamo ogni successo nei suoi progetti futuri Cordiali, saluti Amanda Craft, Gallerissa, Galleria Craft, Eugene Orgon She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens Whoa, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space Color me impressed Ci sarà qualcosa I'll give Victoria props for not posting my photo And for this Boom, this is the email I need to show Juliet Now I have to print this fast and get the hell out of here E come faccio a stamparla? Stampa io Ok andiamo a prenderla Non è qui la stampata No Ah, è qui Prendiamola Andiamocene Io ho l'ansi di fare queste cose Poi ora che arrivi La proprietaria della stanza Andiamo da Juliet E-mail Juliet, read this Of course I'm an asshole I'm sorry, Dina You are And I hope so You really think I'd mess around with Zachary? But I get stupid jealous I owe you dinner Still love me? And you do my laundry Thanks Max You're like the Blackwell Ninja Now let's see what Zach has to say about Victoria You set me free Thank you Warren's flash drive is on my desk Ok, possiamo entrare e prendere la chiavetta Chiavetta prendi Addio Dana Ora devo portarla a Warren Dove era l'uscita? La Ho un messaggio da Warren Non è un problema Non è un problema Aspettare qui per sempre Amo questo parcheggio Posso contare le macchine Più scrivo messa Più ci metto Sta arrivando Stiamo calmi Se la gente non mi fa entrare nelle stanze Non è colpa mia Ora dobbiamo tornare al parcheggio Che chi si ricorda dov'è? Vai al parcheggio Facciamo una foto e interveniamo No, io ho paura che qualcuno si faccia male Interveniamo Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them Hey, hey, nobody is bullying anybody I'm doing my job No, you're not You're part of the problem, Missy I will remember this conversation Oh, Max, that was great I think you scared him for once I have to go But thank you It means a lot Anytime, Kate I felt like an everyday hero helping Kate But now, officer Second,even after the night, hotel Yeah Tack Now, gente Buongiorno 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 Anite Buongiorno 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 I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Cerchiamo Warren. Questi poster della persona scomparsa sarà quello Warren? Chiavetta. Dai Max, un abbraccino. Davvero non ho voglia di parlare. Non ho voglia di parlare. Metti che poi esci che sono stata io. Sì grazie, ho avuto da fare. Non le ho guardate perché devo mentire. Ho avuto da fare. Visto o non esiste? Io non so cosa sia, quindi non esiste. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. Eh, questo era tipo horror o qualcosa di genere, quindi... Eh, faster pussycat kill kill. Ma come? Per niente. Ma come? Non sembramo sempre catapidati. Ho bisogno di parlare, non voglio parlarne. Tutti hanno bisogno di un amico con cui parlare. Ho bisogno di parlare con qualcuno. Solo per farlo dal mio sistema. Dr. Warren Graham è in casa. Io non potrei prescrivere a te alcuni meds. Dicami tutto. Per vero, Warren. Questo è tra te e me, non social media. Non mi insulti. Max, vieni. Ho avuto questa incredibilmente bizzarra esperienza in classica di Mr. Jefferson oggi. Dio... La vita è cambiata. Hai mai avuto un sogno così vero che era come un film? Max Caulfield, certo? Sei uno dei gruppi di fotogruppi di Jefferson? Sono uno dei suoi studenti. Cosa cosa? Sì, ti piace prendere foto. Especialmente quando stai guardando nel bambino. Mi meglio direi cosa vedi. Ora! Di cosa stai parlando? Niente. Facciamo finta di niente raga, io pure che mi spara. Di cosa stai parlando? Stai indietro o potrei chiamare la polizia? Minacciamolo. Minacciamolo. Oddio. Non i miei i bambini, non i principali, Non i miei i bambini, non i principali. Stop that! Or that whore in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Warren! Go! Go! I got this! Come on! Over the year. I got it Chloe! Noi! Nulla non ne ho dio Ma io voglio dirglielo Quindi siccome non so cosa rispondere Lascio la scelta a voi Mi raccomando commentate qui sotto Con la scelta che avete fatto Vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao